vogliamo nascondere i problemi perché abbiamo paura del giudizio delle persone cosa diranno nella nostra famiglia? ho una figlia che fra poco si deve sposare non posso far vedere che ho un figlio che è magari problematico mettiamo tutta la sporcizia sotto il tappeto, lo bisogna nascondere alla fine il tappeto si riempie di sporcizia e tutto viene fuori fino a quando possiamo vivere una recita perché gli altri pensino di noi bene? dobbiamo vivere bene interiormente non dobbiamo avere paura del giudizio della persona vedranno che io vado da psicologo, dal terapeuta a parlare e diranno che io sono matto che dicano quello che vogliono ma se tu hai bisogno di parlare con un psicologo che ti può aiutare o se tuo figlio ha bisogno chi se ne importa di quello che penserà la gente? tu stai curando te stesso piuttosto che tuo figlio bisogna parlare con i figli bisogna capirli, aiutarli, amarli anche se sbagliano, anche se fanno le peggiori scelte anche se fanno le cose più impensate che la nostra famiglia non ha mai fatto anche nell'ambito delle mitzvot fanno le peggiori peccati questo è tuo figlio, lo devi amare non devi respingerlo non devi giudicarlo questo abbiamo parlato diverse volte, lo ripetiamo sempre non bisogna giudicare le persone perché sennò scappano da te tuo figlio o tua figlia quando si trova in una situazione che non è quella che tu ami per lei non giudicarla, non farla sentire disagio non farla sentire male parla con lei, apriti fagli vedere che ci tieni fagli in modo che rimanga vicino a te fagli stare bene da dentro da dentro tu devi entrare nel cuore di tuo figlio o di tua figlia e di te stesso e curare dalla radice questo è il punto numero uno anche se fuori non si vede se dentro c'è qualcosa devi curarlo devi cacherizzarlo nel secondo stadio abbiamo detto sappi che tutto quello che entra può uscire è entrato qualcosa di non cacher lo togliamo che problema c'è? tutto si può fare anche se nel modo peggiore col fuoco anche senza acqua col fuoco si toglie questo secondo aspetto che è quello che entra sappi che può uscire a volte è quello che ci blocca perché pensiamo che siamo un caso perso a volte noi facciamo qualcosa di sbagliato un peccato una scelta sbagliata quello che sia facciamo qualcosa di sbagliato diciamo basta la mia vita è finita perché io ho fatto una scelta sbagliata non potrò più tornare indietro viene a trecce no no è entrato uscirà è entrato un pezzo di maiale nella pentola uscirà cacherizzalo hai mangiato tu qualcosa di non cacher lo tiri fuori hai fatto un comportamento non cacher hai rubato qualsiasi cosa tu abbia fatto abbia scelto tutto quello che entra può uscire c'è qualcosa di peggio per un ebreo della carne di maiale no ma se in quella pentola qualcuno ha cucinato carne di maiale io posso cucinare carne cacher se faccio il processo della cacherizzazione se faccio uscire le molecole del maiale dalla pentola idem da me stesso anche se una persona ha mangiato maiale tutta la vita o ha fatto o si è comportato come un maiale scusate l'espressione non vuol dire che rimarrai così a vita è entrato? è entrato uscirà perché Dio ha deciso che sia così quello che entra può uscire non sei nato male attenzione non siamo nati male o non cacher il non cacher è entrato dopo il male che tu adesso stai vivendo ti è entrato dopo è uscire? è uscire? come è entrato? uscire? perciò non vuol dire che se io adesso ho fatto uno sbaglio è perché io sono sbagliato no tutti noi nasciamo puri candidi un bambino quando nasce è puro poi col passare degli anni lui ingerisce situazioni negative fa azioni negative questo vuol dire diventare un cacher e tornare ad essere cacher entra il male è entrato lo fai uscire si dice questa storia brevissima sapete il rebbe di Breslev è un gruppo chassidico e se lui è mancato Rabbi Nachman di Breslev sicuramente conoscete una volta un suo seguace va da lui piangendo Rabbi Rabbi ho distrutto la mia vita cosa faccio adesso? e il rebbe gli risponde se sei in grado di distruggere sicuramente sei anche in grado di ricostruire cosa vieni qua a piangere a essere disperato che hai distrutto la tua vita va bene piangi ok dispera ok adesso dopo cosa vieni fuori? e Rabbi risponde se tu sei stato così forte da riuscire a distruggere qualcosa sicuramente hai la forza anche di ricostruire qualcosa allora che problema c'è? hai distrutto? ripara metterai a posto noi a volte pensiamo siamo un caso perso cosa diciamo la mattina quando ci svegliamo facciamo le preghiere diciamo Dio l'anima che mi hai dato te orai è pura tu l'hai creata tu me l'hai data tu me l'hai soffiata dentro il corpo io sono lucente io sono vita perché ho divinità dentro il mio corpo ok allora qua dice come dicevo prima noi siamo nati un bambino quando nasce è puro è sublime è raggiante perché quando nasciamo siamo divini poi col tempo sbagliamo strada ma non vuol dire che l'essenza è storta non vuol dire che l'essenza è maligna noi siamo umani nasciamo puri poi strada facendo sbagliamo abbiamo soltanto assorbito queste molecole di negatività durante la vita c'è una storia una storia c'era un shidduh una proposta di matrimonio tra i figli di due grandi maestri due grandi chassidim veramente due nomi di una volta molto molto grandi potete immaginare un matrimonio così wow figli di due grandi chassidim i due uomini i due papà si incontrano per discutere del matrimonio non ancora del matrimonio in generale chi sei tu chi sono io per parlare un po' delle cose come una volta si faceva oggi magari non si usa così comunque nel mondo chassidico ancora sì ma comunque la storia fa che queste due grandi di Kim si incontrano per parlare arriva il primo e racconta di se stesso racconta un po' i suoi avi chi era suo papà chi era suo nonno finché arrivava la sua la genealogia fino al Balshem Tov grande grande personaggio adesso lui chiede al suo potenziale consuocero e dimmi raccontami invece tu chi sei la tua famiglia racconti un po' chi siete un po' le tue origini un po' quello che in ebraico si chiama Icus l'altro dice racconta che lui in realtà all'età di dieci anni era lui un grande un grande saddica anche lui dice che lui a dieci anni all'età di dieci anni ha perso i genitori è rimasto orfano di padre e di madre perciò dice io non so esattamente chi era mio padre chi era mio nonno non lo so io sono stato adottato in certo senso mi ha cresciuto il sarto della città posso dirti soltanto che io da lui oltre a imparare a cucire i vestiti ho imparato lui mi ha insegnato due cose grandissime cosa dimmi quando ti ha insegnato il tuo mentore il tuo sarto il tuo patrino lui dice mi ha insegnato due cose importanti nella vita lui dice nella vita nel mestiere ma ovviamente nella vita dice ripara il vecchio e stai attento a non rovinare il nuovo e quando l'altro ha detto ha sentito questa frase ha detto ah questo shidduk sicuramente questo matrimonio sicuramente sa da fare e i figli sono usciti e poi si sono sposati si sono conosciuti e hanno deciso che veramente potevano sposarsi ma andiamo un po' a capire questo insegnamento del sarto il sarto tecnicamente è uno che ripara i vestiti dice impara tutto quello che è vecchio non va buttato via si può riparare se una giacca è strappata è bucata è consumata un bravo sarto è capace in qualche modo di riparare quello che è vecchio nel frattempo stai attento quando hai una giacca nuova un vestito nuovo attento a non rovinarlo sappi che si può aggiustare si deve aggiustare quello che è rotto riparare però a priori fai attenzione un vestito curalo attento a non rovinare ciò che è nuovo questo è l'insegnamento non soltanto di un sarto ma è l'insegnamento vitale per ognuno di noi a priori dobbiamo essere attenti di non compromettere la nostra vita con peccati chiamiamoli così ma se è successo si può riparare tutto a priori non rovinare ma se hai rovinato vai a metterlo a posto vai a riparare perciò non è importante quando il primo ha visto che lui ha detto una cosa del genere non ha guardato chi era suo padre suo nonno non si conoscevano non è importante chi erano i nonni i genitori ma è importante chi sei tu questa persona ha visto che questo questo povero ragazzo che è cresciuto senza genitori in realtà aveva delle basi di vita molto profonde perché ha imparato dal suo sarto che tutto si può mettere a posto un vestito rovinato non si butta via si rammenda figuriamoci oggi i vestiti per i giovani devono comprarli già strappati pagano di più per comprare strappati ma questo è una lezione a parte è un fiur che faremo forse un giorno perciò non è importante chi è esteriormente chi sei chi è tuo nonno è importante tu come vivi cosa pensi la tua essenza e qua l'insegnamento è come detto il Rebbe se puoi rompere sicuramente hai la forza di aggiustare vi chiedo ancora abbiamo già fatto tardi e chiedo scusa ancora 4-5 minuti vi voglio raccontare una storia e con questo concludiamo ma una storia da brividi quasi da non credere una persona va storia dell'antichità una persona è sposato da 18 anni e purtroppo non riescono ad avere figli lui va dal suo Rebbe non Lubavitch un altro Rebbe un Tzaddik va dal suo maestro e gli racconta Rebbe 18 anni non abbiamo avuto un figlio il Rebbe gli chiede dimmi una cosa prova a pensare forse tu hai offeso qualcuno hai promesso qualcosa da qualcuno che non hai mantenuto hai recato un danno a qualcuno perché dice sappi molte volte le persone non riescono a avere figli perché avendo offeso qualcuno l'offesa di quella persona anche se lui non lo vuole fare apposta rimane sulla vostra aura rimane su di voi e blocca il masal la buona fortuna e molte volte blocca avere figli sono tante storie di persone che non riuscivano ad avere figli e poi hanno scoperto che dovevano chiedere scusa a qualcuno e poi hanno avuto figli lui va e il maestro gli dice prova a pensare in tutta la tua vita hai mai offeso fatto del male a qualcuno promesso una cosa che non hai mantenuto farebbe no 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 poi gli è venuta una cosa ma no no e lui fa no 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 raccontami cosa ti è venuto in mente ma lei è una cosa stupida raccontami e lui dice eravamo bambini 4, 5, 6 anni e abitevamo in una certa città c'era una bambina la mia decina di casa che noi giocavamo insieme e tutti dicevano questi due sicuramente un giorno per gioco io l'ho promesso ok ti sposerò ma Rebbe avevo 5, 6 anni era un gioco da bambini dice alt per te era un gioco per lei sei sicuro che per lei era anche un gioco forse lei da 20-30 anni fa sta ancora aspettando che tu la sposi e lei sta soffrendo perché tu le hai promesso dice e Rebbe cosa faccio io non so più questa ragazza chi è dov'è non la vedo da anni e Rebbe gli dice vai nella città di Helem vai in una certa città e la troverai Helem vuol dire andare come a New York e trovare una ragazza ebrea che era al mio vicino di casa ci sono milioni di ebrei vai e la troverai storia vera questo qui Rebbe dice prende e va va in questa città a cercare a vuoto non sa dove a un certo punto comincia a piovere forte 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 e tutte le persone vanno a ripararsi sotto chi sotto un tendone chi sotto a qualcosa pioveva di rotto e lui va e si ripara sotto una tenda un ombrello quello che è un tendone a un certo punto si sente un gomito che lo lo tocca e lui schiva si sposta e sente una voce che dice fino a quando vuoi scappare da me fino a quando mi vuoi schivare si gira e chi era questa questa persona che parlava era la sua fidanzatina la sua vicina di casa fino a quando scappi da me lui gli racconta la sua storia dice 18 anni non ho figli il mio Rebbe mi ha mandato qui a cercarti per chiederti scusa ero bambino non volevo farti soffrire non ci siamo più visti non ci state sono separate tu hai fatto la tua vita io la mia ti chiedo scusa se tu sei offesa da me per quella promessa ti chiedo scusa non volevo romperti il cuore però io ho bisogno che tu mi perdoni perché voglio avere dei figli e la ragazza gli fa non ti preoccupare ti perdono la storia non finisce lui ormai era nella sua città nativa dove abitava una volta dove lei erano vicini di casa decide di andare nella sua vecchia casa arriva in questa casa e chi vede il suo vicino di casa che era il fratello della ragazzina e dice ho appena visto tua sorella ti porto i suoi saluti e il fratello dice cosa? sei matto? no no l'ho appena parato con lei è stata la pioggia papà dice lei è morta da 18 anni di cosa stai parlando? lei era così innamorata di te che proprio la sera del tuo matrimonio dal dispiacere è andata a dormire ed è morta di crepacuore chi hai visto tu? ma in verità in verità era un miracolo la storia è così credetemi è una storia successa il suo reb che l'aveva mandato in questa città sapeva benissimo che la ragazza era già morta ha fatto un miracolo dal cielo hanno fatto un miracolo per metterlo in condizioni in situazioni di chiedere scusa a questa ragazza qua perciò hanno fatto risuscitare un morto per qualche ora per farlo incontrare con lui affinché lui possa chiedere sinceramente scusa di una cosa fatta anche senza malinica senza cativeria spesso vogliamo scappare dalla verità dalla nostra verità da quello che noi veramente siamo vogliamo scappare non ci piace dobbiamo aver coraggio di mettere a posto le situazioni e non ignorare lui addirittura è andato ha viaggiato a lungo per andare a trovare quella ragazza e a mettere a posto dalla radice la situazione perché il suo rebbe gli ha detto questo è il tuo modo di avere figli e poi è successo hanno avuto figli e vissero felici e contenti ma lui ha avuto il coraggio di andare 18 anni indietro se non di più trovare la ragazza dal cielo hanno fatto un miracolo di farla trovare viva però quello che lui ha fatto è è andato indietro perché ha voluto mettere a posto così come entra così esce psicoanalisi è incompleta il comportamento positivo anche incompleto quello che la Torati dice sappi che se hai mangiato roba non cacher come entra da te esce hai fatto cose negative hai offeso hai fatto cose brutte così come le hai fatte così escono da te ma tu devi essere capace di affrontare la tua verità il tuo essere e non scappare da te stesso ricapitolando numero uno ciò che è nascosto non vuol dire che non c'è vai in introspezione numero due se hai sbagliato non vuol dire che la tua vita è finita entra e esce come nello stesso modo vuol dire abbi il coraggio di affrontare te stesso non soltanto bella facciata tu metti a posto te stesso non sei da buttare via Dio ti ha creato con istinti animaleschi con voglia di peccare non è disumano al contrario siamo umani è disumano non avere istinti maligni però dobbiamo trattenerci dobbiamo andare indietro a cercare e mettere a posto questo nessuno potrà mai rubarcelo mettere a posto ciò che abbiamo rotto questo sì questo dobbiamo farlo possa aiutarci che ognuno di noi possa avere mente sana che nessuno di noi si vergogni di andare da un psicologo di andare a chiedere aiuto se vediamo che un bambino non sta bene non sgridiamolo non appesentiamo la sua vita vai da un psicologo porta tuo figlio da un psicologo qualcuno il vicino di casa ti vedrà ma chi se ne importa l'importante è che mio figlio guarisca l'importante è che io stia bene che mio marito sta bene che chi sta male stia bene andare dentro e dire avere l'umiltà di dire ho sbagliato ma so che Dio mi dà sempre la possibilità di mettere a posto grazie a tutti grazie a Hashem che esisti grazie alla Torah che è sempre così positiva grazie alla chassidut che ci fa vedere sempre la speranza la luce in fondo al tunnel che la Torah e la chassidut ci insegnano che non è mai tardi non c'è niente di grave che possa fermare la nostra vita e cari amici in pe**o facciamo a vivere non per finta ma per verità introspezione curarsi stare bene possa Hashem aiutare che tutti noi staremo bene psicologicamente fisicamente spiritualmente e possa arrivare la grande notizia della venuta di Mashiach Amen Kenya Irazon chiedo a tutti per favore riascoltate questa lezione una volta due volte cento volte mandatela ai vostri amici e speriamo che veramente sia Mashiach adesso 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 Shabbat Shalom a tutti a tutti Grazie.